Buon pomeriggio a questa proiezione, The End of Love, e diamo il benvenuto a Karen Ben Raphael, la regista, e a Delphine Ben Ruby, la produttrice. Due parole prima di dare la parola alla regista e alla produttrice sulla Biennale College. Questo è un film prodotto dalla Biennale di Venezia in dieci mesi. Il progetto è proprio Biennale College Cinema, nato sette anni fa, che ad oggi ha prodotto 22 film, tre li vediamo qui in questa edizione della mostra del cinema. L'idea è quella di riuscire a sviluppare e a girare in dieci mesi un film a micro budget. In questi sette anni il risultato sono 22 film e altri 16 che sono poi stati prodotti indipendentemente. Che cosa facciamo durante l'anno? Beh, ci incontriamo parecchie volte sull'isola di San Servolo e intensamente lavoriamo su tutti gli aspetti della sceneggiatura e della produzione del film. Poi il team va nel suo paese, gira il film ed è pronto per la mostra di Venezia. Questo è il percorso della Biennale College Cinema. I switch to English now, just briefly, then I'll leave the word to the director and the producer. The idea behind the Biennale College Cinema is to produce micro budget features in 10 months. So normally people have little money and a lot of time, or the opposite. In this case you have little time and little money to produce your film. But you will see and judge for yourself that these are amazing works. Biennale College has produced 22 films up to now, funded by La Biennale di Venezia, but there's another 16 that have been produced independently. So welcome to this screening. Tomorrow there is our third film, Lessons of Love. And now I leave the word to you. Good afternoon everybody. Thank you very much for being here. We are very proud and honored to have been chosen by the Biennale with our project. And we want first of all to thank you, the Biennale, the director of the Biennale, and you Sabina, Jane, Valentina, Alec, everyone from the Biennale, Michel of course, that helped us so much. It was wonderful working on this project. I want to present you the actors, not all of them, but Judith Chemlin, which is the main actress of the film. And Lenny Daon, here, which is his first film. And I'm very proud to present him. So I produced the Karen's film after our shorts and all the film we did together. And I'm very proud to be here with you. You made a wonderful job. And I really want to thank the team that made a great, great job with very big conviction, especially Julie Riviere and Pauline Daon, who made a great job with very big conviction. who worked with me at the production manager and post-production manager. And Elise Benrubi. And Elise Benrubi. Who co-writes the film with Karen. Maybe you can... Shush! And all the actors, and you can say a word about Arie, maybe. Yeah, and the other main actor that is with Judith in the film almost all the time, as you will see, Arie Volthalter. Unfortunately, it's another shooting in Russia, so he's not with us, but he's us in the heart. Thank you, enjoy the screening. Hanno ringraziato, naturalmente, tutta la crew e tutte le persone che hanno reso possibile questo film, in particolare l'attrice principale che è qui con noi e l'attorino che è qua al suo primo film. non ci sarà invece l'altro attore principale perché purtroppo è su un altro shooting, però naturalmente è qui con noi. Grazie. 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 Grazie.